Per voi questo è semplicemente un altro caso di omicidio, non fa notizia, ma per me è completamente diverso, è la mia vita. Non deve sfogare la sua rabbia in questo modo, sia più prudente, è una corsa sulla distanza, deve tenere il passo. So che lei ha patrocinato e vinto Monte Causa in difesa dei diritti umani. Forse lei non si rende conto che ogni volta che ho vinto una causa, hanno cambiato la legge. Il mio consiglio professionale è di lasciar perdere. Quello che ho detto al figlio di Gordon quando è stato bastonato, e ora quel ragazzo è morto. L'avevo detto anche quando Gordon è stato arrestato e ora è morto a causa della mia negligenza. Non sono cose che posso dimenticare. La mascella spezzata, il naso fratturato, lo zigomo frantumato. Sarà successo quando ha tentato di saltare dalla finestra. Non vogliamo traditori in mezzo a noi. Non permetterò mai che quelli distruggano la mia famiglia. Non mi minacci, colonnello. Lo consideri un consiglio amichevole. Quando il sistema è minacciato fanno di tutto per difenderlo. Facciamo solo il nostro dovere. Ha paura, vero? Ti prego, non arrenderti, papà. C'è un limite che non va superato. Un'arida stagione bianca. Un film di Hussain Falsy.